una caratteristica qual è una caratteristica degli apporti commento una caratteristica degli apporti è quella di non colpire in genere i partecipanti alle riunioni come se fossero guidati da una forza intelligente abbiamo detto in genere perché presso il cerchio d'oro chi scrive è stato colpito in viso da un libro posto in una libreria nella stanza attigua a quella in cui avveniva la riunione